ok ciao ragazzi siamo qui siamo in quarantena mascherine e tutto quanto noi siamo in lombardia anzi dire è vero a Varese dove siamo noi la cosa è veramente minima però non c'è in giro nessuno impressionante la via Piave è una delle vie più trafficate di alzate e passa mediamente una macchina o un furgone ogni minuto comunque diciamo che stiamo lavorando al 50% stiamo sto lavorando perché praticamente ci sono qua solo io e speriamo di uscire presso da questa situazione è veramente difficile ne approfitto in questo periodo visto che ho un po più di tempo da dedicare ai video per fare la recensione del nostro Galaxy A51 abbandona il notch e si guadagna un buco nello schermo come telecamera quindi in linea con gli altri prodotti Samsung ma andiamo a vederlo un po più nel dettaglio comunque molto carina questa cosa dai passiamo al video quindi cominciamo con l'unboxing unboxing quindi cominciamo con aprire la scatola e vedere il dispositivo nella sostanza che cosa offre rispetto alla versione a 50 ok dentro la scatola pronti via troverete incastrato sopra clip per estrarre ovviamente la sim garanzie varie e istruzioni per l'uso ovviamente Samsung Galaxy A50 in questo colore che è il crash blue prisma crash blue che è bellissimo come vedete ci sono tre fotocamere in verticale e una in orizzontale che da un design abbastanza accattivante fast spina fast charger tipo c per caricare e cuffie ma diciamo che in sostanza esteticamente probabilmente anche come prestazioni è stato migliorato visibilmente rispetto alla versione a a 50 quindi abbiamo abbandonato il famoso notch classico la lunetta che va tanto di moda in questo periodo e ha guadagnato appunto questo buco nello schermo che dovrebbe andare a entrare diciamo in linea con i top di gamma comunque con la nuova linea di pensiero sulla design di Samsung guadagna qualcosa anche in grandezza dello schermo perché se prima era un 6 e 4 pollici quindi in orizzontale adesso diventa un 6 e 5 poco ma qualcosina è guadagnato devo dire che alla vista è veramente piacevole proprio bello questo zigrinatura che vedete qui con questo triangolo e i riflessi vedete le luci come riflettono bene il design mi piace molto devo essere sincero metterei nella categoria smartphone medio grandi come dimensioni e diciamo che le misure su 158 per 73 mm non lo rendono un dispositivo ovviamente compatto ma grazie allo spessore ridotto di 7,9 si riesce comunque veramente a tenere bene in mano non non dà fastidio non è difficile da maneggiare diciamo cosa molto molto importante da questo è anche molto leggero 173 grammi quindi diciamo un telefono riuscito bene per il momento per quello che stiamo valutando in questo momento quello che ha fatto Samsung su questo device è sicuramente ottimizzando ottimizzare e ridurre al massimo i bordi la cornice quindi lasciando una dimensione del telefono comunque abbastanza compatta cosa che lo rende ovviamente molto interessante lo schermo è un super amoled da 6.5 pollici evidentemente la linea come potete benissimo vedere anche voi è stata ispirata da s10 quindi un design particolare c'è chi piace c'è chi non piace devo dire che su questo telefono il buco nello schermo sta bene aggiungiamo che ha lo sblocco biometrico sullo schermo quindi non posizionato dietro e ma pensi davanti anche sblocco facciale perché ormai ce l'hanno tutti che è una exynos 9611 quindi 9611 a parte questo upgrade che dal 9611 al 9610 c'è stato l'upgrade da appunto a 50 a 51 tutto il resto rimane uguale la cpu otta core la mali g72 le prestazioni non migliorano tantissimo rispetto a galaxy a 50 è più una questione di mera estetica che comunque gli è venuta molto molto bene questa versione siamo a 128 giga e quindi 4 giga di ram andiamo a vedere la parte tecnica diciamo vabbè lo schermo è bellissimo la parte tecnica quindi più che altro la parte hardware di galaxy a 51 allora un processore da 2 giga e 3 un cortec a 73 un cortex a 73 con processore a da un giga e 7 7 ovviamente un nexynos 9611 come dicevamo prima 4 giga di ram penso tutti e 128 giga di memoria interna espandibile fino a 512 display appunto era da 6 e 5 non più la 6 e 4 come la versione precedente la risoluzione di 1080 per 2400 pixel densità del pixel 405 ovviamente è un super amoled come caratteri come ci ha sempre abituato a samsung negli ultimi anni è la fotocamera 48 megapixel più 5 più 12 più 5 quindi 48 più 5 più 5 più 12 più 5 soluzione della fotocamera e 8000 per 6.000 pixel in più la fotocamera frontale ottima anche quella 32 megapixel per dei selfie pazzeschi allora registra video in 4k 2160 p 30 fps fotocamera frontale invece registra video in full hd in 30 fps fps a batteria è da 4000 milliamperi che comunque con uno schermo amulet secondo me non avrà una durata eccessiva però ci sta dai con che tipo di dispositivo secondo voi andrà a competere galaxy a 51 sicuramente col mi 9 t anche se fra un po pensiamo che uscirà una versione nuova probabilmente entrando in casa samsung con s10e anche se leggermente meglio probabilmente anche col mi mix 3 comunque in linea di massima secondo me questi sono i telefoni con cui andrà a competere ok proporzione qualità prezzo è ottima il design è veramente bello è un telefono che consiglierei a chi vuole acquistare su questa fascia di prezzo allora in sostanza galaxy a 51 è un telefono cool mi piace molto bello il buco nel display lo rende molto particolare in linea con le nuove nuovo design di samsung quindi gli do un buon giudizio un buon voto le prestazioni sono abbastanza buone anche se non sono migliorate tantissimo rispetto alla versione a 50 detto questo è un telefono che consiglierei sì lo consiglierei lo consiglio a chi ama fare le fotografie non vuole spendere chissà quanti soldi iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao ciao